Alza lo scelto Tutto di fretta caro mio cannello Sì perché c'è una partita Sensazionale C'è una grillo dietro che si vede Fa niente non è un problema Se vuoi salutare Samuel Agrillo Ciao ragazzi Abbiamo 40 secondi perché Loro lo vedono domani Noi però è oggi la prima citazione Dai dai la prima velocissimamente Adesso se vuoi scusarmi Vado a casa a farmi venire un infarto Io spero di no però No infatti anch'io però È una citazione importante Citazione testuale Tra l'altro vedo Cantella con un capello importante Sì sì un capello molto importante Fresco di stamattina Vogliamo ricordare che per vincere Bisogna iscriversi al Fulvio Colovati Official E il primo degli iscritti Che avrà indovinato le due citazioni Vincerà una maglia di Non ve lo diciamo E non ve la facciamo neanche vedere Ma ve la facciamo vedere In tv In tv Seconda Seconda citazione Per favore fanno un cinepanicciore Sono divento pace Non è un cinepanittone Me lo fai stasera Me lo faccio stasera Alla prima che mi fai Ti licenzio E te ne vai Te ne vai tu E lei Io rimango Ah bravo Grazie Questo è Fulvio Colovati Con Fulvio Colovati Che si autolicenzia Eva contro Eva Ciao Ciao Andiamo alla prossima Andiamo alla partita Ciao 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 Andiamo a tornare a quello che stavamo facendo Grazie a tutti Grazie a tutti